Carissimi amici, è arrivato PaninoTube e oggi dopo tanto tempo torniamo su The Test Wars perché ho delle novità veramente pazzesche da darvi Ebbene sì, è in arrivo un nuovo grande aggiornamento, un aggiornamento che andrà a rivoluzionare completamente il gioco a livello grafico E vi farò vedere pure le prime immagini ufficiali Quindi che dire, andiamo subito in partita, ma come sempre c'è qui sotto tantissimi like Se like e che lascerete sarà per i personaggi su chatbue sarà Richie Se invece i like sono dispari, i personaggi su chatbue sarà Chad Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale personaggi siete associati Se vi piacciono questi tipi di video, questi tipi di giochi, iscrivetevi al canale, attivate la camparellina Ma adesso direi di partire, cominciamo subito, tocchiamo qua single player Ma si torna dopo tanto tempo su The Test Wars Torniamo finalmente qua E tra l'altro torniamo anche sul secondo canale dopo tanto tempo Perché effettivamente non ho più portato video su questo secondo canale Perché ultimamente li sto facendo su PaninoTube Plus Cioè nel senso ho ripreso in mano il terzo canale e sto facendo i video tutti i giorni su PaninoTube Plus Però in questo momento, visto che ho delle novità da darvi Lo sto facendo qua Andiamo, andiamo, andiamo Ok, dopo tanto tempo torniamo qua Ma preparatevi perché molto presto vedremo una nuovissima grafica Cioè scordatevi questo stile qua Sarà qualcosa di nuovo Cioè sempre basato su questo Ma migliorato Qualcosa di molto molto bello Ok, adesso andiamo di qua Cerchiamo subito di prendere qualcosa Una macchina, no Questa la lascio lì La lascio di là perché sennò poi va a finire che salvo E perdo la macchina bella Quella è una macchina veramente molto bella Non voglio perderla per nessuna ragione al mondo E torniamo qua a far di nuovo disastri nella Dude City Dopo tanto tempo Dopo tanto tanto tempo Via di sgommata Cioè andiamo di qua Andiamo a salutare il nostro amichetto Chad Come sempre Ok, slitta qua Ma non ha il freno sta macchina Ma non è il freno, no Non la voglio più, non la voglio più Mi sta antipatica sta macchina Mi sta antipatica perché non c'è il freno Via, via, via Vattene via macchina in quel modo Sti 14 Ma sempre i 14 Non mi erano mancati I 14 Non mi erano mancati di sto gioco Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo dal nostro caro Michetto Chad Su gira Ben G Ma che macchina è questa Non mi era neanche mancata la fisica di ste macchine Spero che con un nuovo aggiornamento le possano migliorare Perché qua veramente riuscirà a guidare con ste macchine È un'impresa Ma è un'impresa a guidare con ste macchine Ma che roba Ma che roba Andiamo, andiamo, andiamo Veloci, veloci, veloci Ok Tra l'altro i creatori di Duteft Wars Hanno pure pubblicato un nuovo gioco Lo vorrei provare Però non so se è ancora a portarlo proprio come serie Oppure no Fatemi sapere se vorreste vedere come serie anche Il nuovo gioco fatto dai creatori di Duteft Wars Prendi quei soldini Uno e due Così ci portiamo avanti E ci facciamo tanti soldini Diventiamo sempre più ricchi Via, via, via Scendiamo, scendiamo, scendiamo Di corsa Allora, dove sta la macchina? Eccola qua Ecco qua la nostra cara macchinetta E adesso ce ne andiamo di qua In giro a divertirci Lungo questo percorso Lungo la Dute City Ma cos'è? Ma seriamente? Ma ste macchine che si ribaltano così a caso? Ma di che cosa sono fatte ste macchine? Ma di cosa sono fatte? Di carta pesta Di carta pesca Eh, carta pesca, sì La carta pesca Nel nuovo tipo di macchina Di carta volevo dire La carta pesca Ma cosa? Non ci posso credere Ma cosa? Ma si è ribaltata la macchina Ma si ribaltano così le macchine Come se nulla fosse Sì, pure addirittura Addirittura seppure capovolta Ma stendiamo veramente un velo pietoso Un velo pietoso Tra l'altro preparatevi Perché Molte novità riguardano anche la montagna Guardatela qui la nostra cara montagna Molto presto diventerà molto più bella Molto più ricca di novità Ma cosa? Ma c'era un elicottero lì a terra Avete visto? C'è un elicottero lì tipo spiaggiato sulle montagne Neanche si dice spiaggiato Ma è buttato lì Ma cosa? Guardatelo là l'elicottero Guardatelo là Sì, sì, spostati Spostati, spostati Di corsa, di corsa, di corsa Questa macchina non ha neanche il NOS Volevo provare il NOS qua in montagna Ma a quanto pare A quanto pare mi sa che sono rimasto bloccato Mi sa che sono rimasto bloccato Aiuto! Sono bloccato con la macchina in montagna Di corsa Sì, che bello No, no, no Ero riuscito a sbloccarmi E mi sono sbloccato Meno male, meno male E basta Su E che roba E che roba Via, via, via A divertirci lungo questa città Ma così, no? Macchine che volano a caso Macchine che volano a caso Come se fosse tutto normale Cioè, io già mi immagino A queste macchine Che si svegliano la mattina E dicono Boh, che facciamo di bello Ma andiamo così a volare No, mi sembra più che giusto, eh Mi sembra più che giusto Uh, ma siamo pure davanti Al glorious burger Chissà se nel prossimo aggiornamento Finalmente metteranno Le emissioni di Richie E di Chad Volevo dire No, perché comunque C'è sto amichetto Chad Che noi vorremmo sbloccare Già da un sacco di tempo E ancora non ce la fanno sbloccare Io voglio sbloccare Chad Voglio divertirmi con il nostro caro amichetto E non me lo fanno sbloccare Prendi quei soldi Uno, due, e tre Vai Siamo arrivati a 5530 soldi Che bello Che bello E adesso direi di muoverci Divertirci Qua lungo, lungo niente Perché un cartello No, non si sposta Con la macchina riesco a spostare furgone Ma non riesco a spostare cartellini Poggiati a terra No, 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 no Ma si è proprio andato a schiantare Come se fosse una fetta biscottata Come le fette biscottate quando si vanno a schiantare Ma cos'è? Ma non ci posso credere Non ci posso credere Uh, c'è la pallina Posso prendere a calci la pallina No No, cosa? Guardate qua Non so se voi avete capito bene Quello che sta succedendo Io vado qua dritto No, no, ho sbagliato mira Ho sbagliato mira Vado qua Adesso giro bene da questa parte Ma la palla mi fa praticamente da muro Cosa? Mi si è bloccata la macchina Oh, la macchina è bloccata Mi si è bloccata la macchina Non riesco a toglierla Né se accelero Né se vado in retromarcia Non posso né andare avanti Né andare indietro Né andare avanti Né andare indietro Sì, ma risolveteli sti bug Comunque, cari sviluppatori Aspettate, ma come Ma ecco perché Ma no Sì, ma io come la tolgo quella macchina? Come la tolgo? Ma scusatemi Ma scusatemi Non posso fare niente così Prova a vedere così Fino a quando non mi si toglie sta macchina Mi sa che tanto non si toglierà più Io mi chiedo una cosa Ma com'è possibile Che un semplice pallone Riecie a tenere bloccata una macchina? Com'è possibile? Ma non ci posso credere Non ci posso credere E se la macchina va buttata ormai Non la posso più recuperare Non si può più recuperare Perché un pallone Blocca la macchina Non sapete come bloccare le macchine? Metteteci dei palloni di sotto E vedete che Non si muoveranno più Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma che roba? Ma non potevo rimettermi a fare i video Su PaninoTube Plus No? A mettermi a giocare non so A fare qualche esperimento Con le mod Qualcosa Con i giochi horror No! Torniamo su The Thift Wars E vabbè giustamente Sono uscite le novità Quindi le voglio mostrare Sì ma Con questi bug poi Succede tutto sto coso Prendiamo qua A calci la spazzatura Prendiamola a calci Vai Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa stanno facendo Quelle macchine lì? Ma cosa? Tutte e due fuoristrada Addirittura Tutte e due fuoristrada Oh! Una macchina finalmente Una macchina Ah forse è come quella di prima Vabbè Non è che sia tanto rassicurante Che sia come quella di prima Perché vi ricordate noi voli che si faceva? Ve li ricordate bene? Ma non solo Cioè la macchina che si è bloccata Con il pallone da basket Ma da quando? Ma da quando un pallone da basket Riesce a bloccare una macchina? Ma da quando? Ma io direi di entrare qua Dentro il bullying con la macchina No voglio vedere che cosa succede Voglio vedere qua Sono dentro Bullying con la macchina E facciamo strike Sì Ma cosa? Con la macchina dentro il bullying Dentro il bullying con la macchina Non ci posso credere Non ci posso credere Bellissima sta cosa Spettacolare Spettacolare No 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 Spettacolare Però è macchine che mi spawnano Frontalmente Ma cosa? Ma che è sta roba? C'è la macchina che si gira in quel modo Vabbè è tutto normale Dopotutto siamo su due theft wars Su due theft wars Queste cose sono normali Quindi io tecnicamente Non dovrei neanche sorprendermi Che succedano queste cose Non dovrei neanche sorprendermi Siamo nella norma Siamo nella normalità In tutto ciò Via 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 Corri corri E poi le macchine Che ti vanno a schiantare Come se nulla fosse Come se nulla fosse No La macchina che sta volando Ma mi sta volando La macchina così Ma che roba Ma che roba Su su Raddrizzati Mettiti come si deve E che roba Vai avanti Vai avanti Macchina E che roba E che roba No no Aspettate Non riesco più a risalire Sul marciapiede Ma ha fatto un volo Un salto per salire No Sali 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 Ma dai Ma cosa Aiuto Aiuto No Forse mi è convenuto In realtà Ora che ci pensa È meglio andare in acqua Con la macchina Che è in mezzo alla strada Paradossalmente In sto gioco Conviene andare in acqua Conviene andare in acqua Che stare qua Infatti poi succedono Ste cose No Quando sto sulla terraferma Mi becco di tutto Tra alberi Cosette strane Cespugli Cactus Muri così Marciapiedi Che non mi fanno andare avanti Invece se sto in mare La macchina va meglio Paradossalmente Conviene guidare in mare In sto gioco Ok Andiamo di qua Verso l'area 51 Di corsa Senza fare Troppi bruschivori Di corsa Di corsa Veloci 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 Via 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 Andiamo Andiamo Dentro L'area 51 Ma ci arriveremo L'anno prossimo All'area 51 L'anno prossimo Eh che roba Volevo fare tipo Una sorta di ripalso Del gioco Visto che non ci giocavo Da un po' di tempo Però a quanto pare Qui mi sa che devono ripassare Proprio i comandi Della macchina Ma proprio i giocatori Qua del gioco I personaggi devono farsi Una ripassata Dell'esame Della patente Per guidare in sto modo così Ma almeno ce l'hanno La patente Ce guidano così Perché mi è andato In retromarcia Stavo andando dritto Tutte quelle cose strane Ma che roba Ma che roba Va bene Adesso direi di fare una cosa Direi di passare Alle immagini Ufficiali Del nuovo aggiornamento Di Duteft Wars In arrivo Per far vedere Anche la nuova grafica E no Perché qua A giocare in queste condizioni Veramente Allora aspettate Prima di uscire comunque Devo ricordarmi di salvare Altrimenti qua non faccio niente Eccoci qua Adesso siamo qua Davanti alle immagini Del nuovo aggiornamento Di Duteft Wars Comunque ci tenevo Anche a ringraziare Joshua Ultibox Perché dal suo video Che sono riuscito ad avere Queste immagini Quindi lascerò anche il suo video Qui sotto in descrizione Così potete andare a vedere Anche il video originale Fatto da lui Ma come possiamo Vedere qua La grafica Guardate qua Tutto migliorato Il pavimento Il pavimento qua Il marciapiede È veramente Molto molto più bello Sarà molto molto più bello Di Duteft Wars Con questa grafica Questa dovrebbe essere La Jack Street Tra l'altro Qui dovremmo anche Vedere una montagna Quindi anche le montagne Saranno molto migliori Avremo una grafica Di gran lunga superiore Il gioco acquisterà Sempre più qualità E non vedo l'ora Che esca Per provarlo insieme Ci saranno tante novità Da scoprire Chissà se aggiungeranno Anche finalmente Le cose relative alla storia Ma chissà Perché comunque Siamo lì fermi Con la liberazione di Ricci E poi non è successo più nulla Non hanno fatto più nulla Nessuna novità in più A livello della storia Vabbè Andiamo avanti Vediamo qua Guardate qui Invece come è diventato Questa è tipo La via con le case Qui ci siamo passati Già molte volte Potete notare Che anche le case Acquistano comunque la qualità grafica in più Ad esempio il garage qua Possiamo notare Che è tipo delle texture Dei sensi di tridimensionalità Anche sugli oggetti stessi Anche qua le finestre Guardate qua Il tetto come diventa La montagna dietro La montagna Sembra molto più grande in realtà No no Seriamente Sembra più grande quella montagna Non vedo l'ora di scalarla Con il nuovo aggiornamento Ma tra l'altro Questa forse è un'altra montagna ancora Non vorrei dire Non vorrei dire Ma quella potrebbe essere Anche un'altra montagna Chi lo sa Lo scopriremo più avanti E qua vediamo Se riusciamo a vedere qualcos'altro Nulla di niente Vediamo qua Un'altra immagine Questa è l'uscita Dalla casa Anzi dal garage Di Jack Guardate qua C'è anche qua davanti Tutta quanta La pavimentazione Con una grafica migliore Cioè proprio Viene migliorato ulteriormente Sto gioco Aggiornamento Il gioco Il gioco possa funzionare ancora Sui telefoni di fascia inferiore Perché Lo sappiamo bene Più un gioco ha una qualità migliore E più fa fatica A girare sui telefoni Di fascia inferiore Quindi io spero Che non ci sia questo problema C'è da dire Che comunque Con una grafica del genere Il gioco Acquisterà molta più qualità E potrebbe avere anche Molto molto più senso Non vedo l'ora Di provare tutto quanto Questo nuovo aggiornamento Ma soprattutto Non vedo l'ora Che esca Per giocarci insieme a voi Quindi che dire Per il momento Di ridiferire quel video Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video Ti sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate Così vi siete Iscriviti al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo al prossimo video Come sempre Vi auguro buona giornata Buona giornata Buona notte Ciao a tutti Buon panino a tutti